Il governo giallo-verde ha trovato l'accordo sui punti fondamentali della manovra. A quanto pare l'ecotassa, che aveva tanto fatto nascere scontri dentro l'esecutivo, alla fine sarà confermata. Questa però, grazie alle richieste della Lega e del ministro dell'interno Matteo Salvini, verrà depotenziata e finirà per riguardare solo auto di grossa cilindrata. Ancora il testo finale non è stato rivelato e dunque diventa difficile capire quali auto saranno coinvolte. In base però alle prime indiscrezioni, sembra che mentre Fiat Panda non sarà colpita da eventuali aumenti per le sue versioni a combustione, lo stesso non accadrebbe per le nuove auto di Alfa Romeo ed in particolare per Stelvio. Questo in quanto il provvedimento è volto a colpire in particolare questo tipo di auto, indicate tra le maggiori responsabili dell'inquinamento nelle nostre città. Ovviamente cresce a Cassino la preoccupazione per il futuro dello stabilimento, visto che il provvedimento potrebbe colpire alcune delle auto qui prodotte, come ad esempio Alfa Romeo Stelvio e forse anche il futuro SUV compatto di Maserati. L'ecotassa 2019 sulle nuove auto rimane, ma quanto pare, sarà solo per le immatricolazioni di nuove auto di lusso. Non è però al momento ancora chiaro cosa si intende per auto di lusso. Nel 2020 a Cassino dovrebbe partire la produzione delle nuove versioni ibride di Alfa Romeo, Stelvio e Giulia. Però fino a quel momento per lo stabilimento laziale di FCAE ci sarà da soffrire se alla fine il governo, come pare, manterrà l'ecotassa.